Il progetto è nato quando la necessità di fornire connettività a bordo treno era ormai consolidata, sia per offrire ai viaggiatori un servizio da cui non si può più prescindere nel quotidiano, sia per lo scambio di dati di servizio terratremo. Oggi esistono tecnologie che basate su reti cellulari o su sistemi satellitari e poi esistono tecnologie come la tecnologia che propone FluidMesh che invece hanno l'obiettivo di creare una rete ad hoc dedicata e proprietaria in grado di fornire prestazioni più elevate anche per applicazioni critiche. Sistel è un sistema integrato specializzato nella progettazione, distribuzione e realizzazione di sistemi e servizi integrati di telecomunicazione. Sistel si è affidata a FluidMesh che è una soluzione garantita, sicura, testata anche oltre 300 km orari, soprattutto certificata rail e con un fast roaming affidabile. Il progetto parte con la finalità di soddisfare la crescente esigenza di comunicare. In verità non è stato per niente facile ipotizzare una soluzione che potesse associare affidabilità e continuità del servizio su tutte le linee gestite da Ferroviere di Gargano. La morfologia del territorio e il posizionamento dell'infrastruttura ferroviaria non avrebbero permesso infatti una soluzione adottabile dovunque, nei tempi richiesti e con il budget disponibile per la realizzazione del progetto. Pertanto abbiamo dovuto optare, almeno in prima applicazione, per un sistema di connettività misto, LTE Trackside. Sfruttando la dorsale in fibra ottica lungo tutta la linea ferroviaria di Ferroviere Gargano, abbiamo installato una serie di access point Fluid Mesh connetturizzati lungo linea. L'obiettivo è quello di creare una serie di celle al quali le access point di bordo treno possono collegarsi in fast roaming. Oggi la tecnologia Fluid Mesh è in grado di fornire centinaia di megabit al secondo di throughput utile ad un veicolo in movimento con velocità superiore ai 300 km orari. Fluid Mesh ci ha aiutato molto sia nella fase di progettazione sia nella fase di realizzazione dell'impianto. È risultata essenziale grazie alle sue capacità tecniche e alla disponibilità immediata. Oggi, alla luce dei risultati ottenuti, posso confermare l'efficienza del sistema Fluid Mesh e riconoscere al produttore la capacità di gestire la complessità di un sistema di telecomunicazione in ambito ferroviario. Oggi, alla luce dei risultati, posso confermare l'efficienza del sistema Fluid Mesh Oggi, alla luce dei risultati, posso confermare l'efficienza del sistema Fluid Mesh Come funziona l'efficienza del sistema Fluid Mesh I luog немного precedenti, posso confermare l'efficienza del sistema Fluid Mesh Crobando anche l'efficienza del sistema Fluid Mesh Grazie a tutti